In conclusione siamo sempre con la professoressa Anna Maria Poggi, docente di diritto costituzionale e regionale all'Università di Torino. Il Piemonte è andato a elezioni anticipate, c'è una certa comunque crisi a livello di regioni, una certa anche corrente di pensiero che dice che c'è una certa forma di delegittimazione delle regioni da parte di un certo centralismo romano. Lei è d'accordo con questo punto di vista? Guardi, io vorrei, come dirano, sfatare un po' di luoghi comuni. Allora, da un certo punto di vista è innegabile che l'Istituto delle Regioni non goda di buona salute in questo momento, stando alle cronache giornalistiche. Io vorrei fare una riflessione però un po' meno superficiale su questo punto. E la mia riflessione è questa. Il fenomeno della corruzione in senso lato. È un fenomeno che è sempre, almeno la storia questo ci dice, e anche il livello comparato, è sempre strettamente connesso all'aumento delle funzioni pubbliche che vengono esercitate. Ora, non c'è il minimo dubbio che nel nostro Paese la stragrande maggioranza delle funzioni pubbliche, soprattutto quelle connesse, diciamo così, al welfare o alla vita dei cittadini, dal 1998 ad oggi, è stata scaricata dallo Stato centrale sul sistema locale. Questo enorme aumento di funzioni pubbliche crea il, tra virgolette, rischio, malamministrazione e rischio corruzione. Quindi da questo punto di vista ci dobbiamo rendere conto che è quasi fisiologico. Casomai abbiamo sbagliato in questo Paese a non capire quali fossero gli strumenti che ci potevano aiutare a prevenire questo tipo di rischio. E quindi questa è un po' la mia valutazione. E quindi, facendo un passo in avanti, non è detto che riportando allo Stato questa massa di funzioni amministrative si risolvano i problemi. Perché potremmo avere il problema al contrario. Come del resto lo abbiamo avuto in Italia negli anni 60-70, in cui non c'era il decentramento di questo livello e gli scandali erano scandali prevalentemente di livello nazionale e statale. Quindi noi dovremmo marciare facendo queste riflessioni. Il discorso è diverso. Il discorso è, abbiamo bisogno di regioni? Allora, se noi abbiamo bisogno di regioni e di regioni che abbiano un senso dal punto di vista geografico ed economico, è questa la domanda a cui dobbiamo rispondere. Casomai dobbiamo prevedere tutti i correttivi e tutti gli istituti che ci aiutino ad avere delle regioni che siano delle regioni che contribuiscano allo sviluppo socio-economico di questo Paese.